Grazie a Brianza Rock Festival che ci ha proposto questa collaborazione che per noi è stata una cosa nuova ma una cosa molto bella poter abbinare al lavoro quotidiano anche un passaggio con l'arte è sicuramente molto stimolante. I nostri ospiti hanno visto in questi giorni la mostra le persone che in questi giorni sono venute a trovarle c'è stata questa possibilità di interscambio che è sicuramente importante. La nostra scommessa la vedete alle nostre spalle, l'abbiamo finita da tre mesi oramai accogliamo 60 malati complessi tra malati in stato vegetativo e malati di SLA abbiamo 11 posti di persone in situazione terminale, in ospis da poche settimane. Pertanto il nostro, come dico sempre, il baraccone funziona completamente grazie anche al supporto un po' di tutta la città è una commessa che ci è costata 11 milioni di euro tra i dei quali li abbiamo oramai coperti abbiamo 20 anni di tempo per coprire gli altri 8. Questa è una delle tante iniziative che ci servono per far conoscere questa importante realtà e anche per coprire parte dei costi che dobbiamo annualmente sostenere. Grazie, grazie a tutti voi grazie per esserci soprattutto a fianco perché a volte, soprattutto nelle notti in cui automaticamente vengono fuori i conti e le domande non riusciremo mai a pagare tutti i nostri debiti il fatto di sentirci a nostro fianco alla città è sicuramente una cosa importante. Grazie a tutti e buona sera.